Ecco lì, ecco lì! Sono l'avanti, hai visto? Ma adesso devono andare tutti gli altri. Dico a te padre. Vieni qua. Vieni qua. Non c'è proprio strano anche qui. Tutto a posto? Mi hai fatto male. Passa l'ambulato un po' a posto. Ah, perché capivano? Eh, una settimana esperienza. Per una macchina che troviamo o così normale? Perché arrivano? Vieni già da imbaccio. Non credo. Manuel, tu metti lì e guarda bene. Ecco, guarda. Va bene, dai. Dai, ciao, ciao. Voladi. Parla. Parla. Shh слов. Vieni qua! ma non riesci a vedere ma non si o no ecco lì ecco lì guarda quanti guarda che si sono fermati ma quante biciclette va ma quante biciclette ma quante biciclette che comunicava il rispettatore guarda quante biciclette dopo la croce vostra possiamo andare guarda quante biciclette